Sostituiva le provette di sangue di automobilisti trovati alla guida sotto l'effetto di droga. Responsabile un infermiere 50enne in servizio all'ospedale di Giulianova, indagato dagli agenti del distaccamento di polizia stradale di Giulianova nell'ambito dell'operazione Blood Exchange. L'uomo che deve rispondere di corruzione, favoreggiamento e falsità ideologica, dietro la consegna di denaro scambiava e ripuliva le provette di sangue di automobilisti sorpresi alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sostituendole con provette di sangue pulito. Indagato con l'accusa di corruzione anche un automobilista coinvolto nello scambio. All'infermiere è stato imposto l'obbligo di dimora presso il comune di Mociano Sant'Angelo, il divieto di lasciare il suo domicilio dalle 18 alle 7 di mattina e l'obbligo di firma presso la stazione dei Carabinieri al mattino e al pomeriggio. Per l'automobilista l'autorità giudiziaria ha imposto invece l'obbligo di dimora presso il comune di residenza di Giulianova. Le misure sono state messe dal GIP del Tribunale di Teramo Giovanni D'Arensis su richiesta dell'EPM Davide Rosati. Le indagini non sono però concluse visto che ci sarebbero sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti altri episodi sospetti che sono in corso di approfondimento. Un'indagine molto seria che va inquadrata come dicevo in un contesto più ampio in un contesto più ampio perché la polizia stradale da anni che cerca di rendere più sicura la circolazione e soprattutto dare una possibilità agli utenti che venga garantita la circolazione nella maniera più lineare e sicura possibile. Questa è un'operazione, credo che sia proprio la prima in Italia, la prima in Italia che ha fatto emergere, lo ha detto anche il signor procuratore, dei dati assurdi. È la prima volta che c'è questa situazione, chiamiamola truffaldina, di scambio di provette di sangue in un ospedale. persone che risultavano positive su strada, alla prova, al prelievo ematico, in realtà le provette poi quando venivano esaminate davano esito negativo. Come siete arrivati ad individuare questo infermiere? Ma attraverso innanzitutto delle conoscenze delle persone che si sapeva essere dei tossicodipendenti. Venivano fermati puntualmente e puntualmente venivano poi fatti tutti i prelievi e su strada e poi come campioni ematici, ma come ho detto la situazione strana è che questi campioni ematici poi risultavano negativi e quindi veniva panificato tutto il lavoro degli operatori. Comandante, tra l'altro ricordiamo che guidare sotto l'effetto di alcol e soprattutto droghe è pericolosissimo. Ma guardi, più che pericolosissimo è quello che noi dobbiamo assolutamente stroncare con un lavoro sinergico di tutte le forze di polizia, a prescindere dalla polizia stradale, la polizia in generale, l'arma dei carabinieri. Dobbiamo anche essere aiutati dalle istituzioni e dalle organizzazioni locali.